Ah ti vedo il mio skin No fra 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 No dai 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 Allora se mi spara Dai fra non mi uccidere ti prego No 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 Vai Ma allora raga Sono le feste È arrivato il Natale Insomma ci sono tantissime altre feste ancora E quindi vi volevo augurare tanti auguri Di buone feste a tutti quanti voi Spero che siete passando delle giornate Molto belle serene Piene di cibo perché quella ragazzi Forse è una delle cose più importanti Anzi anzi no piene anche di regali A proposito fatemi sapere qui sotto Nei commenti cosa avete ricevuto Per Natale come regalo E se vi è piaciuto un regalo in particolare Ma comunque arriviamo al dunque Come avete visto sicuramente dall'anteprima del video Ho incontrato un altro tizio Che stava giocando appunto nella mia stessa partita Con questa skin che è A dir poco troll e divertetelo utilizzare Infatti l'ho utilizzata per un po' di tempo Ho trovato questo ragazzo che utilizzava la stessa skin Ed eravamo entrambi a tilted Lui inizialmente mi spara E io tipo mi boxo per dirgli No 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 Fermati dai Abbiamo la stessa skin Diventiamo amici E poi alla fine Alla fine L'ho sfidato in uno v uno Così per ridere e scherzare Ovviamente andrete a vedere Come è finito l'uno v uno E andrete a vedere Cosa è successo alla fine Perché ovviamente È successa una cosa Molto molto interessante Non potevo Non fare questa cosa Sinceramente non ho capito Se quel ragazzo Fosse italiano o meno Perché essendo che ero live su Twitch Ogni volta che gioco Mi trovo sempre degli extreme sniper Che entrano nella mia partita Con l'intento di uccidermi Quindi non so se fosse italiano o meno Ma comunque Ma comunque Vedrete cosa è successo Io vi ricordo ragazzi Di iscrivervi al canale Lasciare un bel pollicione in su a questo video E vi ricordo che mi trovate In live streaming su Twitch Tutti i giorni Dalle 12 fino alle 21 di sera Con Fortnite e Rocket League nel pomeriggio Quindi raga Mi raccomando Venite tutti quanti a salutarmi in live Link in descrizione Ma detto ciò ragazzi Non perdiamoci in chiacchiere È il momento di andare a vedere Questo fantastico video Buona visione E vi assicuro che ci sarà da divertirsi Questa skin è così grande Che non passa No rosico Non possono avere così C**o le persone comunque Apri Ti fa una vita Questa gente è sempre shieldata Non è assurdo Wow 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 Ma veramente Ragazzi ma la gente Dove la trova Sti loot Ma com'è impossibile Ma è diverso Dani Non è come di tu Non è lanciare Di quello che pensavamo noi È come quello che hanno fatto vedere Nel trailer Delle skin natalizia Che tipo c'è l'aero Che butta la cosa E si tipo si sticka per terra Però non fa nulla Cioè boh Non capisco Oddio Ah ti mette la mia skin No fra 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 No ti pego Ti pego Dai 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 Allora se mi spara Dai faranno mi uccidere Ti prego No no Vai 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 Lui era un vero gladiatore Lui era un vero gladiatore Che mi ha accettato in duello Vincerò il game per te Se sei un italiano non lo so Vediamo Guarda non posso vedere il nome vero? Eh no Devi guardarlo poi dal replay Eh ma non c'ho i replay attivi Posso attivare adesso è troppo tardi Eh troppo tardi No Dani No Dani devo vedere se sei italiano Ti prego dimmi Ti prego dimmi che sei italiano No raga devo vedere se sei italiano Se sei italiano vincerò il game per te Te lo giuro Lui è stato un vero combattente Fino alla fine ragazzi Non puoi Quando ti ammazza lui fai il report E vedi il nome Eh sì in quel caso lo so anch'io infatti Ma questo è proprio Ma quanto Questo Questo build up e basta The enemies Lui E' regnaro di tutto Ti faceva un bagnetto Perché non si lavava da un po' di giorni Così decise di buttarsi giù dalla cascata Mi dissocio Non sapevamo se effettivamente lui sia morto o meno Ma lo scopiremo Tra qualche secondo Non appena Mi arriverà una cecchinata Che farà miss Il ragazzo E' sparito Ah ma era qui Chi è che cosa viola Dork shit Noi ci avviciniamo Con un po' di intelligenza All'abitazione del nemico Eccolo Ritrovato Il nostro individuo Modestamente chiamato Blatta germica Andiamo di edit E facciamo Ma non vedo un c***o Ah ma non posso sparare Aspetta Ecco perché Il nemico Si avvicina Martina Prova a fare un replace Riuscendoci In quanto è siciliana Chiude il muro Attenzione Ricarica il charge Potrebbe essere La fine per Martina Ma Martina Ha un asso Nella manica Ed è quello Di ammazzare Il signor Toxic Blast 01 No nessun 01 Dove l'ho letto 01 Procediamo Con La congiunzione Allora Non ti permettiti A spararmi In quanto Il buchetto Se non è di Sei scarso Ok bravo Allora è un better player Adesso faremo La tecnica Del 449 RPG E poi Colpo di pompa Mi dissocio Easy replacing Quanto siamo siciliani Possiamo Oh Il nemico Si è un po' confuso Questo game Ho detto che si vince Dobbiamo vincerlo Per forza Ragazzi In onore del nostro amico Caduto in battaglia In 1v1 Dobbiamo 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 vincerlo Martina Martina Si avvicinava In modo costante Mirando col cecchino Ah Provato a predittare Vai Guarda di cecchino Vai brother Ma carina velocissima Che cecchino C'ha Lui mi farà cadere Di full damage Ma Martina Non prenderà neanche Un po' di full damage Quanto è possibile Prendere full damage Piu 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 Lui proverà di nuovo A farmi cadere Nuovamente Ma sarà Assolutamente Impossibile La mia skin Non può essere Sconfitta Da questo giocatore Attenzione Fa una rampa Allora faccio Una rampa Anch'io Allora fa una rampa Anche lui Allora faccio Una rampa Anch'io No 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 Dai sta prendendo Questo gioco Oh 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 Fa una rampa Anche lui E Martina Non la fa così Il nemico È convinto Di riuscire Ad ammazzare La preda Ma non ha capito Che questa skin È imbattibile Questa skin Ti dà dei poteri Attenzione Il nemico È in seria difficoltà In quanto si trova A prendersi Un 61 in testa Amici Amici Attenzione Il nemico viene Craccato Va in panico Non sa come muoversi Non è possibile Sarà proprio lui Mongral A prendere L'agrand a Martina Non è vero Attenzione Mongral Ci prova Attenzione Benjifish Questo è Benjifish E lui Prova a prendere L'agrand a Martina Ma non riesce Attenzione Si fa lo scudino Ottima scelta Da parte di Benjifish Si fa un altro scudino Ottima scelta Da parte di Benjifish Stenzione Prova a salire Si prende uno shot E viene Craccato di nuovo E il nemico Accade di fall damage E Martina Wins the tournament Against Benjifish Goodbye Questo game È dedicato a quel ragazzo Che aveva la mia stessa skin E che mi ha rispettato Non attaccandomi E ha fatto l'uno in uno con me Questo game È dedicato a te Se sei italiano Un bacione Solo per aver preso questa skin Sei veramente Un giocatore valido Assolutamente Grazie